Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video sul mio canale Siamo qui oggi con il ritorno del calciomercato di Serie B Tante, tantissime notizie ci sono quest'oggi Visto che ieri abbiamo preso una pausa e non ho parlato assolutamente di calciomercato Avevo scritto qualcosina sulla mia scheda community Che vi invito sempre a sorvegliare Perché lì quando non pubblico video Pubblico delle news di calciomercato Che possono essere molto interessanti E che sicuramente faranno piacere ai tifosi Che mi seguono di determinate squadre Ieri ad esempio ho detto che Valsania è un nuovo giocatore dell'Ascoli Affare fatto, infatti ieri in serata è arrivato anche il comunicato ufficiale Da parte dell'Ascoli che acquista un giocatore in prestito dalla Cremonese Un giocatore molto interessante Che può fare molto bene sotto la guida di Castori Però prima di partire con le notizie Vi devo chiedere un pollicione su qua sotto 30, 40, 50 mi piace per supportare i miei contenuti Un'iscrizione al canale totalmente gratuito ragazzi Mi raccomando iscrivetevi Questo è un canale che parla solo e unicamente di Serie B E ne partiamo subito Partiamo per l'appunto con anche queste notizie sulla Sampdoria Perché Aramu è vicino Se la Samp riesce a cedere un giocatore Può chiudere Aramu dal Bari in prestito Con diritto di riscatto E questa è una tentativa che può intavolare Le grottaglie e la dirigenza della Sampdoria Occhio a questa pista Che dobbiamo monitorare di giorno in giorno In più ieri su Tirol ufficializza un acquisto importantissimo Arriva un giocatore ex Atalanta Arriva Curtici, il centrocampista offensivo Che ha fatto tanta esperienza anche in Serie A Negli anni passati Riparte su Tirol in Serie B Dopo Molina arriva anche questo giocatore Che firma un contratto di sei mesi E forse anche qui c'è un'opzione per un altro anno In più sempre in casa su Tirol Piace tantissimo a Rigoni Centrocampista del Como In più ancora Falletti Sempre notizia di ieri Affirmato con la Cremonese E quindi una volta finita Definita la cessione di Falletti e la Cremonese La Ternana chiude per Gaston Pereiro Dal Cagliari Che sarà per l'appunto nuovo giocatore La Ternana ritrova il DS Capo Zucca Andiamo un po' con le notizie di oggi Perché ci sono gli occhi di tanti club di Serie B Su Traore del Milan Su Ciaka Traore del Milan Tante squadre di Serie B Vogliono prendere questo ragazzo Classico 2004 Esterno offensivo In prestito Ma bisogna vedere se i rossoneri Sono intenzionati a mandarlo a giocare in Serie B Oppure vorrebbero tenerselo Per gli ultimi sei mesi della stagione E ancora notizie di calcio in mercato Palermo Occhio perché si può chiudere Per Ranocchia Centrocampista in prestito all'Empoli Ma di proprietà della Juve Si può chiudere per questo centrocampista A 3 milioni di euro Potrebbe essere una trattativa molto importante Anche onerosa Con un bel esborso economico Da parte della proprietà Perché per l'appunto La cifra richiesta dal club È di 3 milioni Il giocatore Non sembrerebbe tantissimo convinto Di scendere di categoria Quindi da fare Serie A e Serie B Ma occhio perché il Palermo Spinge forte per averlo E sicuramente potrebbe essere un'opzione Tanto valida Per rafforzare il centrocampo rosanero Quindi occhio a questa pista Perché Ranocchia E Palermo Sono vicini Nel senso che basta convincere Il giocatore Perché l'accordo Fra i due club È totale C'è anche il Como Che è interessato al ragazzo Ma il Palermo In questo momento È in vantaggio A tutti Perché ha l'accordo Con la società Bianco-nera Ancora Altre notizie Di calcio in mercato In più Vi voglio dire Che il Lecco Ha preso un giocatore Dal Lecce Se non sbaglio Salomoa Arriva dal Lecce In prestito Con diritto di riscatto E contro riscatto Da parte del Lecce Quindi ufficiale Anche un primo rinforzo Per il Lecco Che lavora anche in uscita Perché Tengorang Andrà a giocare Ritornerà a giocare In Serie C Piace molto A Rimini Ed una sua ex squadra Ovvero Lentella Quindi il Lecco Che lavora anche Per sfoltire la Rosa In più Il Cosenza Ieri è chiuso per Camporese Ritorna Camporese Ritorna il difensore Ex-Portenone Che se non sbaglio Ha giocato questi primi sei mesi Con la Ferral Pistola Ma ha trovato pochissimo spazio Ovvero solo le due presenze E per l'appunto Si trasferirà A titolo definitivo Firmando un contratto Di un anno e mezzo Un ritorno Ben gradito A Cosenza Anche perché ha fatto molto bene È un giocatore di esperienza È un giocatore Che in Serie B Sa fare il fatto suo In più Sempre in casa Cosenza Piace tanto Un terzino Ovvero Gianluca Farabotta In prestito Al Bari Si è sempre Anche lui di proprietà Della Juve Bisogna capire Se la Juve è disposta A richiamarlo Dal prestito E poi a ridarlo Al Cosenza Magari in prestito Con diritto di riscatto Mocchio anche a questa pista Perché Frabotta È un nome Che piace tanto In casa Cosenza Intanto Catanzaro Ufficiale All'accessione Di Welbeck Al Catania E per l'appunto Catanzaro Che lavora anche In uscito Dopo Bombaggi E Welbeck Ecco i primi due Esuberi Mandati A giocare In Lega Pro E sempre Ragazzi Rimanendo in tema Serie B Occhio perché Pafundi Potrebbe Non andare Alla Reggiana Ci sono altre squadre Interessate Una su tutte E il Venezia Che ci sta Che ci sta provando L'Udinese Ha intenzione Di dare il prestito Il giocatore Vi avevo raccontato Nei giorni scorsi Che la Reggiana Era molto forte Sul ragazzo Col pressing Del direttore sportivo E anche in primis Dell'allenatore Nesta Mocchio perché Il Venezia Si è inserito È un giocatore Che piace tanto Anche all'allenatore Vanoli E al direttore sportivo Filippo Antonelli E bisogna capire Se veramente Poi il ragazzo Disposto Ancora a riscendere di categoria Ma il Venezia Sicuramente potrebbe essere Un upgrade Rispetto alla Reggiana Perché il Venezia Gioca per andare In Serie A Quindi Occhio anche A queste ragazzi Pista Sempre Lecco Oltre a Tengorang Che andrà in uscita Zambattaro Ufficiale Il suo passaggio Alla Torres Giocherà in Serie C Nel Giro NB Per una squadra Che sta lottando Con il Cesena Per venire In Serie B E quindi Anche questo È un esubero Che va via In casa Lecco Intanto Il Suttirol Lavori in uscita Perché Shiva Passa la Cremonese Sampdoria Per l'appunto Vicino il colpo Aramu Perché può arrivare In prezzo Con diritto di riscatto Ma bisogna capire Se la Samp Riesce prima a fare Una cessione Perché una volta Fatta una cessione Si può chiudere In brevissimo tempo Questo colpo Interessante Che sicuramente Se valorizzato E messo Nelle condizioni giuste Nello schema tattico Di Andrea Pirlo Può portare Tantissima qualità In casa Sampdoria Ancora Ragazzi Notizie Di calciomercato Brescia Fares Con le valigie pronte Le rondinelle Cercano il sostituto Fares Che ha trovato Pochissimo spazio In casa Brescia Dopo i primi sei mesi Potrebbe per l'appunto Ripartire Pace tantissimo Invece Niccolò Corrado Della Ternana Oltre a lui stuzzica Anche il nome Di Simone Giordano In uscita Dalla Sampdoria L'esterno Per l'appunto Classo 2001 E in uscita Alla Samp E piace tantissimo Al Brescia Occhio perché Il Brescia sarà attivo Dopo aver preso Avella in porta Piacciono Giordano E Corrado Per rinforzare Li terzini Ancora ragazzi Notizie Di calcio Di calcio Mercato Cosenza Sondaggio per Ulman Per Ulman Maximilian Ulman Difensore classe 1996 In forza Venezia Che non sta giocando Tantissimo Occhio perché Il Cosenza Su questi fronti È sempre molto Attivo Cosenza scatenato Sul mercato Intanto Falletti ragazzi Praticamente firmato Con la Cremonese E diventerà ufficiale Oggi secondo me In questo nuovo Acquisto importante Può dare tanto A Giovanni Stroppa E alla piazza Cremona E tornando sempre Sulla serie B La Ferral Pisalò Dà la caccia Al centrocampista E alla punta I due rubri che piacciono Sono ragazzi Ce li riporta Sempre a tutto Mercato web Per la linea mediana Piace tantissimo Alessandro Murgia Ex prodotto Del settore Giovannino Della Lazio Ha giocato anche Con la Spal E il Perugia In serie B In questo momento Gioca in Romania Bisogna capire Se il ragazzo È disposto A tornare in Italia Perché sembra Che in Romania Si trovi molto bene Mentre per quanto riguarda Ragazzi L'attacco Il direttore sportivo Della Ferral Pisalò Andrea Ferretti Avrebbe messo gli occhi Su Giacomo Parigi Dell'Arzignano Valchiampo In serie C Occhio a questo nome Per rafforzare Il reparto Offensivo In casa Ferral Pisalò Perché la mantia Non sta facendo bene Il Como sogna Un colpo della serie A Perché piace Luca Romero Del Milan Che non è molto Non è facile da convincere Di scendere in categoria Anche se il Como È molto ambizioso Perché sul giocatore C'è anche L'interessamento Del Lecce Club di serie A Ma il Como È vigile Anche su questo Aspetto In casa Spezia Non ci sarà molto Probabilmente Il rinnovo di Zuet Ha parlato anche La gente Del calciatore portiere Dello Spezia In questo momento Per l'appunto Dice Non si sta parlando Di rinnovo Ancora Gli ultimi notizie Di giornate Di calcio mercato Brescia Ceduto Riviere In serie D Ma questa notizia Ragazzi Marginale Vi voglio dire Che per Girma Ci sono sirene Dalla serie A Girma Attaccante Rivoluzione Di questa serie B In questo inizio In questi primi sei mesi Attaccante della Reggiana Piace tantissimo A Monza E Bologna Che ci pensano Però per giugno Quindi potrebbero Potrebbero lasciarlo In presto Per altri sei mesi Una volta acquistato Il cartellino Alla Reggiana Per aiutare La squadra di Nesta A raggiungere L'obiettivo stagionale Ovvero La salvezza Fatemi sapere la vostra Qui sotto con un commento Cosa ne pensate Di questo calcio Mercato Pollicione sul video Iscrizione al canale Noi ci becchiamo A un prossimo contenuto Bella ragazzi Noi ci becchiamo Noi ci becchiamo